Questa casa ormai sarà la mia Jack o Lantern? Eh? In che senso? La vedo dalla finestra Verrà qualche suo caro amico, non lo so Tu vedi qualcuno? No Ciao Jeff Spero quelle stupide se ne siano andate Ti ho portato una pozione che ho dovuto nascondere per non farla trovare da quelle lì Non lo so Allora questa pozione Dovremo passatela a lui Io penso che dobbiamo seguire la mappa che ha trovato Natalie E vedere dove ci porta Oggi è con Lantern E' qui presente? E' che siamo arrivati a destinazione Quindi questo è il castello? E' il colore L'Italia è una provincia dell'impero all'oriente Ok mi sa che ho finito E' finito Natalie? Si mi sa proprio di si Dopo ripassiamo eh Dai vai a lasciare tutto che dobbiamo cenare E' subito Ok ho fatto Possiamo cenare Emi tu hai finito i compiti? Sì ho finito Brava E mi viene un attimo Ma hai messo tu questo colore? No è così E' un telefono e c'è un video sul mio telefono Ah ma lì c'è anche un biglietto Aspettate eh Perché qua la situazione si complica Che cos'è? Questo Natalie è il tuo telefono? Sì è il mio telefono L'ho visto C'è un video Ok ragazze Prima di aprire questo video presentiamoci Io sono Mamma Veri Io sono Natalie Io sono Emily E insieme siamo Mommy e Family E continuiamo questa avventura di Jack o Lantern Io vedo un video lì Natalie Lo vuoi aprire? No Io c'ho paura No 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 Chi schiaccia? Nessuno Non schiaccia nessuno Noi rimaniamo al video Così ce ne andiamo Sì ma qua c'è anche un biglietto Quindi dobbiamo sapere Dai anche tu devi essere qui Vieni qua Ok dai Emily vai Pronti? Pronti? Insieme vai Vai E con le manciose sorprese di vedermi Cosa credevate che io mi sarei fatto trovare nel mio castello E solo uno dei tanti che ho in giro per il mondo Mi raccomando alla sfida che vi ho lanciato Voglio una zucca perfetta Altrimenti la sfida non sarà superata E solo una delle sfide che ho in mente per voi Mi raccomando Ah ah è bravo Oh oh Che cos'era? Chi è? Cioè lui è Jack o Lantern Veramente? Ma è brutto Ora leggiamo i bigli E entusiaste per la zucca? Ma non vi affrettate ad intagliare Per tradizione ad Halloween dolcetti bisogna creare In cucina troverete tutti gli ingredienti per poterli creare Ma occhio a non sbagliare Jack o Lantern Scusa vuoi lui vuole che non sbagliamo a niente? No a quanto pare no Natalie Qui c'è qualcosa che puzza Qui c'è qualcosa che puzza Secondo me è un odore di cioccolata Andiamo a vedere in cucina Oh Qui sembra tutto pronto C'è cioccolata Gli stampini Però gli stampini sono i nostri Dividirla Jack o Lantern Ha preso i nostri stampini E quindi che dobbiamo fare? Questi stampini? Sì Ci ha preceduto Perché noi già dovevamo fare dei cioccolatini Sì E quindi adesso che facciamo Natalie? Piastricciamo Siete pronte? Iniziamo Dai via Ok Allora Voglio iniziare con gli scheletri Dai Gli scheletri con il cioccolato bianco Uno lo fai tu e uno Sì vai Allora Ok Aspetta intanto Piano piano Una alla volta Una alla volta Il cioccolato bianco Anche perché lo scheletro è bianco Kira Lo vorresti? Invece no Un po' Kira Ok Spalma Ma devi mettere anche questo Il bastoncino Falli per bene Natalie Ho paura Dopo dopo si sbatte così Vedi? Vedi come si fa? Dopo si fa così Prendiamo un bastoncino Wow E la mettiamo lì Sì Carine Vai Emanuela tocca a te Aspetta aspetta E la mettiamo Dai 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 Natalie Dai speriamo che vengono buoni Altrimenti Giacolanturn Ci farà sfide ancora più brutte No più che altri Aspetta Ma questa non è una sfida brutta Sono buoni cioccolatini Sì Ok piano 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 Dove vai lo scherzo Vai Ok vai Prendi un'altra Prendi un'altra Molto Un bastoncino Lo devo mettere per io Vai Vai metti l'altro Metti l'altro Kira Ma che cosa vuoi? Mi dolcetti Ma no non sono per te Vieni qua tesoro Vieni Ma l'hai fatto una Non fa niente Non fa niente Non fa niente Vai mettete lo stecchino Metti lo stecchino Metti lo stecco Metti lo stecco Lo stecco Lo stecco Lo stecco Lo stecchino E' un'altra cosa Ok Ok adesso usiamo la cioccolata scura Per fare la zucca Ok vai E mi hai sporcato i cucchiaini Di prendere una Non è che ci vuole tanto Ma che schifo Ma che schifo Di ma dai Natalie Ma che schifo Dai Vai Natalie Veloce Uno tu E uno E uno Avvicina Avvicina anche questo Avvicina anche questo Avvicina di cola Natalie Forse è cioccolato Natalie Stai sporcando tutto Ma veramente Qua 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 Oh mamma mia A te Piano piano Emanuele Piano Oh mamma mia E se vuoi possiamo anche mischiare Possiamo anche mischiare il cioccolato bianco e cioccolato Vai vai Mmm E prendi Vedi Prendi Aspettiamo Quanto le avevi messo Natalie Che c'è Ma sporchi sempre Tu Tieni Dai Ok Prenda Prenda Ok vai Ci siamo Ok Diciamo Avete difficoltà Vi aiuto No No ho fatto Oh mamma Dai vai No ci vuole l'altra Ci vuole l'altra No ho fatto No No ci vuole un altro po' Anzi mettete lo stecco E poi mettete l'altra cioccolata Fate così Ah ok Lo metto io Sì Sì Dai metti lo stecco Sì Che dite La superiamo la prova Sì dai Con i dolcenti secondo me siamo bravi Dobbiamo ancora intagliare la zucca però eh Domani intagliamo la zucca Altrimenti Oh Sì Cosa sta andando Oh oh Dovete metterlo più dentro Non mettetelo troppo fuori Sì Domani faremo la zucca Mi raccomando Sì Ok Ora che cattivo Ora volevo fare uno strato di cioccolato così E uno bianco Eh quello che ti avevo detto io E voglio vedere come esce Ah che pasticci Ce n'è una parte Una parte marrone E una parte cioccolata Ci voleva la sacca poche Quella usa e getta Mannaggia Il sacca poche Innaggia Non ce l'ha data Che vuole Non ce l'ha data Ci ha dato i cucchiaini Non ce l'ha mai usata la sacca poche Però Jack o Lantern Sei molto birichino Perché ci hai lasciato Il nostro stampino Per fare i cioccolatini E che ne sai Magari lui non li aveva Non ce l'ha Con quella faccia E lui mi sa che Al posto che è bianco E ti metto Ma dove hai combinato Nathalie Vabbè Non fa niente Vabbè dai Vai davanti Non ti fermare Speriamo che Jack o Lantern Accetta questa cosa Nathalie Sì dai L'ha detto soltanto Di fare i cioccolatini Nathalie Non l'hai pulito Ha messo anche la ragnatela Jack o Lantern Che questo è sempre Brutto Allora vieni dietro Anche la ragnatela È sempre la nostra Eh ma ha guidato tutto A dovere Nel frattempo Che noi eravamo lì Allora Però è un po' lo schifo Però va bene Ok vabbè dai Speriamo che Jack o Lantern La prende bene ragazzi Perché io vedo Degli intrulli qua Volevo fare io Volevo fare io Volevo fare voi Volete fare voi Va bene No ferma Che stai facendo Ma dai Ma stai piasticciando No Nathalie Ma che schifo Dai Che schifo Voglio fare un pipistrello Multicolore Ma io non li mangerò Questi cioccolatini Che pipistrello Ve li mangiate voi Chi li fa Se li mangia Qua è il pipistrello Sì E anche questo Il pipistrello Poi questo Andranno posato in frigorifero Sì Devono indurire Quindi almeno Una mezz'oretta Almeno una mezz'oretta Ma voi non ce li finiamo Già il giorno Che non è Allora Quindi poi Questa è la sfida Che ci ha dato E noi la facciamo Ne faremo altri Nathalie Ma Kelly No Dai Intervieni con un fazzoletto Una cosa Prendi un fazzoletto Che ce l'hai là Aspettate Roba sistemiamo tutto Con i fazzoletti Mamma di Natalie Sei negata Non chiamate Natalie Per farvi fare una torta O un dolce No vabbè Sì Non chiamate Non chiamate Natalie Tira vieni qui Lo vuoi? Vuoi un cioccolatino Vieni Vieni che ti do un cioccolatino Tieni Qua più che un cappello Da strega Sembra Ora finiamo Questa cioccolata E facciamo Il cappello Ma ora tocca a me Sì Vabbè Facciamolo E mi metterà Gli stecchi Dai E mi metti gli stecchi Non voglio guardare Sei già uscita fuori Dai Bardi Ma perché sono più stecchi E là sono più stecchi Infatti è vero Perché trovi più stecchi Cioè Jack Ma qua hai messo più stecchi E meno No È proprio la confezione Ah è vero Questi li abbiamo comprati noi È vero Ci avevo pensato Jack Ma non hai altri stampini Puoi mettere di più Una Chissà se Jack Ha altri stampini Mmm Ho recuperato Un altro stampino Però Natalie Vai mamma mia Il risultato è questo Il risultato Diciamo È Vabbè Ma Vediamo comunque Poi non hai letto In frigo Tanto in frigo Ma sì Mi ha detto Di lo sportare Ha detto Tanto di fare I cioccolatini Va bene Beh A noi servivano Altri stampini Perché è rimasta La cioccolata Di Jack E quindi La usiamo Adesso li mettiamo In frigo Ci vediamo Tra una mezz'oretta Ciao Ciao Natalie Che ne pensate Dici che piaceranno A Jack Secondo me Sì Sono bellissimi Ok Vediamo quella forma Di teschio Vuoi vedere Quella forma di teschio Aspetta Fammi vedere Wow Vedete il teschio Aspetta Aspetta La zucca Il pipistrello Un po' Vediamo come è uscito Questo qui Il cappellino Due strati Guarda È bellissimo Due strati Wow Il cappello Della strega Ok Che cosa vuoi Due Tre Due Uno Io assaggio Il pipistrello Tu con le assaggi Emi il teschio Natalie tu Il teschio Anche tu Mi assaggio Quello misto Buonissimo Cioccolata Per noi La prova è superata Chissà per Jack Come ce lo farà a sapere Secondo voi Ma lui non li ha assaggiati Quindi come fa a dire Si o no Aspettiamo un suo messaggio Il video per stasera Finisce qui Ragazzi Sono bellissimi Augurateci buona fortuna